Tony Russo, un successo che è andato oltre le aspettative, quello che ha riscosso il concerto degli Sharabah e ragion per cui avete deciso di riproporre lo spettacolo domenica 10 dicembre. Il 10 dicembre, questa volta alle ore 19.30, abbiamo di nuovo il grande gruppo capitanato da Cursio Cortese e da tutti i musicisti che hanno allietato quella serata. È stato molto bello perché tante persone che sono venute e altre che non sono potute entrare per mancanza di posti, noi abbiamo circa 100 sedie disponibili e abbiamo immediatamente deciso di fare un nuovo concerto domenica prossima e quindi alle 19.30 ci saranno di nuovo gli Sharabah. È una grande soddisfazione per voi quando poi le iniziative ottengono un successo di questo tipo? Certo, intanto perché finalmente c'è musica anche a sciacca, anche con artisti nostri che è di grande qualità, questo è importante, e con i nostri concerti che abbiamo proposto in questi tre anni ormai, avendo musicisti da Palermo eccetera, però questo ci dimostra che anche nel nostro territorio c'è una grande qualità artistica che è mostrata attraverso questa loro capacità di riproporre, io ho ascoltato dei brani come a Virrineda per esempio che non sentivo da tantissimi anni, una canzone siciliana proprio dei tempi, in una versione assolutamente bellissima e che mi ha veramente sollecitato a riproporre insieme con loro questo nuovo concerto. Maestro Cortese, questa riproposizione di brani della tradizione mediterranea in una nuova chiave acustica si è rivelata vincente? A quanto pare sì, la cosa mi riempie di orgoglio e di felicità, io parlo a nome ovviamente di tutto il gruppo, noi abbiamo creduto sin da subito in questo progetto, pensavamo che Impotenza poteva avere un grande risultato e un bel appeal sul pubblico e in realtà così è stato, mi è dispiaciuto per molte persone che sono rimaste fuori, però grazie alla disponibilità di Tony Russo e di tutto il circolo appunto replicheremo questo concerto nella speranza che quelli che non hanno potuto assistere alla prima, perché in realtà è stato veramente un debutto, che noi abbiamo pensato a questo gruppo qualche mese fa con l'intento appunto di recuperare un po' le tradizioni siciliane ormai non più così evidenti, cioè pensiamo a pezzi che sono passati quasi nel dimenticatoio invece noi abbiamo pensato proprio di riproporli, riprenderli e rileggerli in modo da renderli sempre vivi insomma e quindi mi auguro che questa volta quelli che non hanno potuto partecipare possano appunto far parte del pubblico e per noi sarà una grande soddisfazione. Ci saranno delle novità rispetto allo spettacolo che avete già proposto o sarà identico a quello che già c'è stato? Allora qualche novità c'è sempre, però in virtù del fatto che comunque, come si dice, la squadra che vince non si cambia e in questo senso abbiamo, sostanzialmente lo spettacolo sarà riproposto, però qualche chicca, qualche novità comunque la riserviamo sempre anche perché è una sorpresa che non va svelata ma che è giusto insomma proporre. Grazie. 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 Grazie.